Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 casi di ictus, una patologia che è la prima causa di disabilità nell'adulto e la seconda per l'insorgere della demenza. Un tema di grande attualità che è stato affrontato nel corso del convegno intitolato ictus, conoscerlo bene e curarlo meglio, tra esperienze e prospettive di intervento, tenutosi al CEF Pass di Caltanissetta. Numerosi gli aspetti analizzati dai relatori nel corso dell'incontro, tra i quali l'importanza di capire i sintomi tempestivamente, fornire i primi soccorsi, raccontare l'esperienza di sopravvissuti, sottolineare il ruolo centrale della riabilitazione specializzata post-ictus e provare a migliorare la qualità della vita dei pazienti. L'ictus cerebrale in Italia rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Come detto, in Italia si registrano circa 100.000 casi l'anno, di cui 80% sono nuovi casi e 20% recidive. A 30 giorni dall'esordio la mortalità è del 20% per l'ictus ischemico e del 50% per l'ictus emorragico. Il direttore generale del CEF Pass Roberto Sanfilippo ha sottolineato la delicatezza dell'argomento, spiegando come il centro regionale nisseno sia una struttura altamente specializzata nella formazione del personale sanitario impegnato nel trattamento dei pazienti colpiti da ictus, oltre che impegnata nella sensibilizzazione dei cittadini sul tema.